Crisi industriale, riconversione dello stabilimento Eni di Gera non ancora partita, bonifica dell'impianto ISAF saltata, sono alcuni dei punti trattati nel corso dell'esecutivo macro area sud-est Sicilia della Wiltec che si è svolto nella sede gelese di via Colombo. Eni è stato ribadito, deve continuare ad investire rilanciando il piano occupazionale e la politica regionale deve stare attenta alle dinamiche industriali nell'isola. Emanuele Sorrentino, segretario generale macro area sud-est Sicilia. Vogliamo anche capire e vedere quali sono le intenzioni di Eni per quanto riguarda anche tutto il settore della chimica. Come sappiamo l'Eni vuole disfarsene della chimica, vuole passare questo importante asset industriale ad una società privata, la SK Capital che noi non ci convince perché non riteniamo che sia un'azienda capace di sviluppare questo settore così importante per il paese. E noi da questa riunione facciamo partire una serie di gridi di allarme, di iniziative e di nostre impressioni rispetto anche a tutta la politica dell'Eni in Sicilia. Stiamo parlando dell'opportunità per circa 4.000 lavoratori che viene meno grazie alle decisioni di un consiglio di amministrazione che ha ai noi optato per occuparsi più che altro di commercializzazione di petrolio e non di finire la filiera dall'estrazione alla raffinazione passando dalla chimica. Purtroppo oggi viviamo questo dramma che investirà tutta l'azienda Eni. I lavori sono stati coordinati dalla segretario generale aggiunto della Wiltec Maurizio Castania. Attraverso un nostro grido, un nostro allarme, attraverso i protocolli siglati, attraverso un accordo di programma che stenda a decollare, attraverso una politica regionale che deve far sì che anziché parlare di disoccupazione, parlare di licenziamenti, crei davvero gli sviluppi autorizzando celermente quelle che sono le attività in Sicilia, sia dell'Eni o di altri imprenditori, noi dobbiamo avere un cambio di marcia, un cambio di rotta. Siamo in un momento di stasi, non c'è quello sviluppo, non c'è quella riconversione reale e immediata che si aspettava. Siamo ormai a due anni dal protocollo, ci aspettiamo un'accelerazione, ci aspettiamo un impegno forte, sia da parte della politica sia da parte dell'Eni.